Salve, sono Sogmaester Dario, abito a Santa Giustina e sono mosaicista. Per l'occasione vi presento il quadro che ho donato per il progetto Restar Dolomiti. Si tratta di un'opera musiva realizzata con i sassi del Piave e degli Dolomiti. Rappresenta due cardellini in rilievo che si posano su un ramo a primavera. Sono diverse le similitudini che trovo tra la mia opera e l'iniziativa che stiamo sostenendo. La più immediata è sicuramente la materia prima che utilizzo, appunto i sassi dei nostri torrenti e fiumi. Questi ci fanno tornare alla mente la forza del Piave e dei suoi affluenti in quei terribili giorni di fine ottobre. Come ogni frammento delle mie opere serve per creare un insieme armonioso, così ogni albero e torrente delle nostre valli alpine crea il fantastico patrimonio che ci circonda. Con questa mia donazione vorrei aiutare a rimettere ogni tessera nella posizione che gli compete. Come la natura ogni primavera riparte dopo le difficoltà dell'inverno, così io spero che questa immagine rappresenti la nostra forza per ripartire e ricostruire. Vi invito tutti a sostenere questa iniziativa venendo dal 19 gennaio a Villa Pat di Sedico per ammirare le opere donate ed esposte e partecipare all'asta che si svolgerà nello stesso luogo il 26 gennaio 2019. Il 27 gennaio 2019 Il 28 sangue 2019 Il 27 avevoasto da un'inverno, dieci Longinas, più tardi, la mia importanti당a, il 29 gennaio 2019. Il 28 gennaio 2019